Allora come è andata? Mancano all'appello solo i candidati della secondaria di secondo grado che svolgeranno la prova preselettiva per il TFA di sostegno, l'ottavo ciclo in particolare domani e a cui va tutto il nostro pensiero e supporto morale. Gli altri quindi i candidati della infanzia primaria e secondaria di primo grado hanno già svolto la preselettiva quindi fateci sapere un po' come è andata, siete soddisfatti di come avete svolto la prova? Facciamo un primo resoconto se volete attraverso la chat in cui sono presente e vi rispondo e per chi vorrà magari dato che la chat come sapete dura la durata del video e questo è un video breve, subito dopo magari nei commenti. Intanto volevo fare un inciso e quindi segnalarvi alcuni video a parte quelli delle playlist che vi ho segnalato in un precedente video che possa tornarvi utile in questa fase di preparazione al TFA quindi in vista fondamentalmente della prova scritta. In particolare si tratta di tre video dedicati alla prova scritta e che quindi sono presenti sul canale gratuitamente e che potete quindi vedere o comunque dare un'occhiata. Uno è la prova scritta, cosa aspettarsi, la progettazione didattica in tre passi perché sapete che la prova scritta è anche una prova pratica quindi spesso prevede qualche riferimento o una progettazione vera e propria e richiama le conoscenze nella prova scritta che è utile soprattutto quando si hanno difficoltà di memorizzazione o comunque di riportare alla memoria ciò che si è studiato. Poi vi consiglio anche di guardare il video dedicato agli aggiornamenti quindi alle novità che sono intercorse nel 2022 riguardo all'inclusione e in particolare l'introduzione definitivamente del PEI su base ICF a cui si collega anche un altro video importante ovvero la cornice teorica dell'ICF con esempi pratici. Poi vi consiglio anche di guardare alcuni video che sono dedicati a degli argomenti che sono abbastanza ricorrenti nella prova scritta ovvero il video in cui faccio chiarezza fra la differenza fra competenze chiave e competenze trasversali che vi è utile non solo per le tracce dedicate proprio alle competenze ma anche come vi dicevo alle tracce che includano la progettazione di un intervento didattico in cui ovviamente dovete sapere cos'è una competenza e magari avrete fra gli obiettivi lo sviluppo di determinate competenze. Poi c'è un altro video anche molto interessante sulla valutazione formativa e la valutazione sommativa che vi serve anche in questo caso sia per una traccia teorica sulle due differenti valutazioni ma ha degli esempi pratici quindi vi può essere utile proprio per la progettazione, la proposta di un'attività didattica. Vi è inoltre un video sul sistema nazionale di valutazione collegato anche al rapporto di autovalutazione quindi il RAV che serve così per avere una idea generale di come funzioni la valutazione a livello di sistema di istruzione italiano e un video sulla tecnologia e l'inclusione per affrontare la transizione al digitale tanto promossa e auspicata dal ministero dell'istruzione e non solo in maniera consapevole infine tre video della serie 10 cose da sapere in cui affronto tre tematiche interessanti autismo, bullismo e NAI ovvero alunni neoarrivati in Italia. Bene fornite queste rotte per esplorare le risorse gratuite di diversi tutti per prepararsi al TFA voglio anticiparvi che a breve sospenderemo l'erogazione delle guide digitali a pagamento in quanto ci sono un po' di sorprese a cui stiamo lavorando per l'autunno. Quindi scrivetemi nei commenti quali sono le domande che proprio non ti saresti aspettato e che hai trovato nella preselettiva, quali sono le domande che ti hanno creato maggiori difficoltà e se hai ritrovato qualche domanda di quelle sugli argomenti che ti avevo segnalato essere fra i più probabili, cioè cinque cose che troverai e che se non hai guardato ti consiglio di guardare in quanto questi cinque argomenti sono comuni a tutte e tre le prove. Bene un caro saluto a tutti, un in bocca al lupo per la prossima prova che l'ha scritta e naturalmente a presto!